Ciao a tutti i gugi e bene ritrovate la vostra underlink roundtune in questo nuovo episodio per slot kai rare hunt Comunque sia ci tenevo a dirvi che domani inizia il paradiso divino e con lui il primo boss Ci vediamo domani, bye bye Falscus, mi spiace tanto Grazie a tutti Amplicant Grazie a tutti Da piazza Grazie a tutti Negativi Nullio Garro garro Amoro scuro Sanguinaggio Velo ovunque Pericano Ray Lux Grazie a tutti Grazie a tutti